Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita, nuova video recensione di software audio-video acquistato qui o lì. Protagonista di questo video è l'edizione in VHS di un lungometraggio che vede il nostro Verdone abbandonare per la prima volta la sua Roma. Prodotto da Mario e Vittorio Cecchigori e distribuito in VHS dalla Vivi Video, Io e mia sorella è una pellicola del 1987 diretta da Carlo Verdone, attore, regista e sceneggiatore italiano. Per Io e mia sorella Verdone, al suo settimo lungometraggio, ne cura anche la sceneggiatura. Io e mia sorella è una commedia dal sapore melodrammatico che ha come interpreti principali Carlo Verdone e Ornella Muti. Nel cast anche Elena Sofia Ricci che sarà premiata con un David di Donatello come miglior attrice non protagonista. Carlo Verdone interpreta qui l'oboista Carlo Piergentili. Sposato con la violoncellista Serena, Elena Sofia Ricci, Carlo vive una vita piuttosto tranquilla, scandita dai ritmi di una pacifica cittadina come Spoleto. Tutto inizia a cambiare con la morte della madre, quando ricompare la sorella Silvia, Ornella Muti, una scapestrata e capricciosa avventuriera che conduce una vita opposta a quella di Carlo, ma a cui Carlo vuole molto bene. Carlo ospita temporaneamente Silvia in casa, iniziando a mettere a rischio il rapporto con Serena, perché insieme all'esuberanza di Silvia iniziano a piombare addosso alla tranquilla coppia tutti i suoi problemi. Inevitabilmente Carlo si fa coinvolgere in tutti i suoi guai, con le buone intenzioni di aiutarla, ma purtroppo un problema tira l'altro e la vita di Carlo ne esce stravolta. Il dizionario dei film Il Mereghetti assegna due stelle su quattro a io e mia sorella, poiché, rivisto oggi, sottolinea il critico, soffre di una certa difficoltà nel conciliare toni seri ed irrequietezze esistenziali con le regole della farsa di situazione e della commedia degli equivoci, salvo poi riprendersi nella sincera malinconia del finale. Per quanto riguarda il giudizio tecnico, la VHS di questo film assicura una buona visione anche se non a livelli di eccellenza, nonostante il riversamento curato dalla Vivi Video. Le tinte della pellicola sono un po' scure e il video è affetto da molto rumore. L'audio inoltre non è presentato in surround e quindi è concentrato solo sul fronte anteriore, non regalando grosse emozioni. Il DVD ha una difficile reperibilità nel mondo dell'usato ed essendomi capitato questo nastro ho potuto finalmente vedere un film che mancava tra le mie visioni. Leggendo qualche recensione ho scoperto che il DVD non aggiunge poi molto alla qualità, quindi alla fine è andata bene così. Per quanto mi riguarda, io e mia sorella lo considero un film di passaggio nella carriera cinematografica del regista romano e come tale va giudicato. Come dicevo all'inizio, abbandonata Roma e tutte le sue caricature, Verdone compie un primo sperimentale passo verso un cinema di più ampio respiro, come avrà a commentare gli stesso, e che lo porterà a livello successivo con compagni di scuola. Lamuti è convincente nel ruolo di donna di capricciosa sensualità eternamente insoddisfatta. Carlo è un fratello premuroso che si trova immerso nei guai della sorella, forse perché cerca inconsciamente una spinta per uscire dal rapporto un po' troppo tiepido con la moglie. Io e mia sorella vincerà un secondo David di Donatello come migliore sceneggiatura. Film buono per un cinema de sé tra le quattro mura domestiche. Per questa video recensione è tutto, come di consueto se vi è piaciuta potete regalarmi un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per ricevere notifica di pubblicazione di nuovi video. Ciao e grazie da Federico di Seconda Vita